laudentur jesus et maria amici carissimi bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla storia la vicenda di maria di magdala narrata negli iscritti di maria valtorta siamo giunti a un momento cruciale dell'esistenza di questa donna di questa grande donna e anche della sua sorella marta perché lazzaro è morto abbiamo proprio visto e ascoltato la narrazione della morte di nazaro nella puntata precedente la morte di lazzaro e il delirio che ha accompagnato la morte dove appunto nella condizione di delirio purtroppo lazzaro aveva diciamo cantato non pochi rimbrotti alla malcapitata sorellina e quindi mettendo a dura prova ecco la sua la sua unità la sua pazienza anche la sua capacità di portare il peso di un passato terrificante no ecco questo evidentemente ha evidentemente anche dietro questo c'è una premissione divina no vorrei prima di iniziare proprio focalizzare questo aspetto perché a mio avviso è abbastanza importante quando nella vita combiniamo qualche guaio è proprio delle persone serie semplicemente serie oltre che immature mettersi l'anima in pace e prendersene le conseguenze vedremo quanto gesù ha amato e amava maria di magdala immensamente però vedremo anche come pur dipendendola e pur consolandola in alcune circostanze confortandola però non ha impedito che come dire le tornassero indietro alcune brutte esperienze qualche brutto quarto d'ora è dipendente dalla sua vita di peccato quando questo accade dobbiamo piegare la testa offrirlo con amore umiliarci e dire come diceva amare di magdala me lo sono meritato siamo capaci di farlo è una cosa importante se dici questo poi verrà la consolazione divina che ti darà una carezza perché ti vede appunto contrito e umiliato come dice il salmo 50 sapete che nel vetus sordo nel breviarium antico durante il tempo di quaresima il salmo 50 si recita tutti i giorni come primo salmo delle lodi mattutine uno si fa una bella scorpacciata no? uno spirito contrito e umiliato è sacrificio a dio e tu non lo disprezzi tutti quanti noi dobbiamo imparare questa sacrosanta santa e benedetta virtù dell'umiltà san tommaso d'aquino dice che l'umiles viene da humus aclinis da uno che sta proprio prostrato con la faccia a terra dicendo vai io mi merito di tutto e di più gli asserimani stanno sempre a dire mi è successa questa cosa io non non me la sono meritata non me la merito io vorrei esortare gli amici e le amiche quindi che non lo so ritengono in qualche modo degno di fiducia quello che dico non perché lo dico io ma perché lo ritengono detto in un certo modo spero perché per favore io desidero essere come san giovanni battista questo sia chiaro a tutti voce della parola niente di più amico dello sposo niente di più quindi invito le persone che ritengono autorevole quello che dico ad esercitarsi se non è mai abbastanza così come anziché stare sempre a fare misericordia 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 dire al signore prima per favore mi sistemi per le feste cioè mi mandi qualche bel castighetto che mi purifichi in modo tale che le macchie di tutto quello che io ho contratto di nanzi a te siano pulite e purificate a poi viene la misericordia dopo non prima invece c'è la misericordia subito e la purificazione mai io non non riesco a fare pace insomma con un comportamento del del genere senza mai cadere ovviamente nella depressione intanto meno nel disprezzo sterile di noi stessi nel pensare a povero me non c'è più niente da fare queste sono tutte quante stupidaggi non sono pensieri propri di chi è umido ma di chi è superbo e alimentati dal diavolo non si tratta di questo però uno spirito contrito ed umiliato tuo Dio non disprezzi ora detto questo andiamo a vedere lo step successivo quindi il paragrafo successivo che si intitola non rinuncia a sperare oltre il credibile vedete se uno ci pensa Maria di Magdala qui è stata sottoposta ad una prova simile per certi aspetti a quella a cui Gesù avrebbe sottoposto la sua santissima madre con la sua di morte no? la morte è come dire è l'ineluttabilità per antonomasia gliel'ha detto l'altra volta il medico Nicomede è morto festa finita ragazzi ma Gesù è raccomandato di credere oltre il credibile sperare oltre lo sperabile e così è stato per la sua di morte questa prova ce l'ha fatta a superare la Maria di Magdala quella della morte di Gesù no l'ha superata soltanto la Madonna e vediamo come Maria di Magdala ha superato la sua inizio la lettura la notizia della morte di Lanzaro deve aver fatto l'effetto di un bastoncino agitato nell'interno di un alveare tutta Gerusalemme ne parla notabili mercanti popolo minuto poveri gente della città delle campagne vicine forestieri di passaggio ma non ha fatto nuovi del luogo stranieri che sono lì per la prima volta e che domandano chi è questo tale la cui morte è cagione di tanto sommovimento romani legionari addetti agli uffici leviti sacerdoti che si radunano e si sciogliono continuamente correndo qua e là capannelli di gente che con diverse parole ed espressioni parlano del fatto e chi loda chi piange chi si sente più mendico del solito ora che è morto il benefattore chi geme non avrò mai mai più mai più un padrone simile a lui chi è numero i suoi meriti e chi illustra il suo senso e la sua parentela i servizi e le cariche del padre e la bellezza e ricchezza della madre e la sua nascita da regina e chi purtroppo rievoca anche pagine familiari sulle quali sarebbe bello calare un velo specie quando vi è di mezzo un morto che di esse ha sofferto questa cafonaggine a quanto pare è antica che il cattivo gusto e la cafonaggine dell'essere umano a volte non si ferma neanche davanti alla morte questo sempre per chi ritiene in qualche modo degno di considerazione quello che dico per favore per favore lontani dalla cafonaggine che è sempre qualche cosa di estremamente brutto proprio sgradevolissimo lontano con un po' di cafoni in meno la vita sarebbe molto meno triste di quanto è vabbè le notizie più disparate sulla causa della morte sul luogo del sepolcro sull'assenza di Cristo dalla casa del suo grande amico e protettore proprio in quella circostanza fanno parlare i gruppetti e le opinioni che prevalgono sono due una è quella che questo è avvenuto anzi è stato prodotto dal cattivo contegno dei giudei sinedristi e farisei e loro simili verso il maestro l'altra è che il maestro avendo di fronte una vera malattia mortale vera qui sta in corsivo se l'è squagliata perché qui non sarebbero riuscite le sue frodi anche senza essere astuti è facile capire da che fonte viene quest'ultima opinione che invenenisce molti che rimbeccano sei anche tu fariseo se lo sei bada a te perché con noi non si bestemmia il santo maledette vipere partorite dalle iene in connubio con le fiatanne simpatica questa cosa chi vi paga per bestemmiare il messia batti becchi insulti qualche pugno anche e salati improperi agli impalutati farisei e scrivi che passano con aria di dei senza degnare di uno sguardo la plebe che vocifera pro e contro loro pro e contro il maestro e accuse quante di queste risuonano per le vie costui dice che il maestro è un falso è certo uno che ha messo su quel ventre con i denari dati da quei serpenti testepassati coi loro denari coi nostri devi dire ci spolpano per questi belli scopi ma dov'è costui che lo voglio vedere se uno di quelli ieri sono venuti a dirmi è fuggito ma viva Dio qui si deve unirsi ed agire sono troppo imputenti altro colloquio ti ho sentito e ti conosco dirò a chi di dovere come parli del supremo tribunale io sono del Cristo e bava di demonio non mi nuoce dillo anche a danni a caifra se vuoi e ciò gioia a farli più giusti e più là a me a me spergiure bestemmiatore perché seguo il Dio vivo tu spergiure bestemmiatore che lo offendi e perseguiti ti conosco sai ti ho visto sentito spia venduto correte a prendere questo e intanto comincia a stappargli in faccia certi schiaffoni che fan diventare rosso il viso assuto e verdastro di un giudeo Cornelio Simeone guardate mi malmelano dice un altro più là rivolgendosi ad un gruppo di sinedristi sopporta per la fede e non tizzozzare labbra e mani nella vigilia di un sabato risponde uno dei chiamati senza neppure vuole voltarsi a guardare il malcapitato sul quale un gruppo di popolani esercita una rapida giustizia le donne strillano richiamando i mariti con suppliche perché non si compromettano i legionari girano in pattuglie facendo largo al suono di colpi d'asta e minacciando arresti e punizioni la morte di Lazzaro il fatto principale è lo spunto per passare a fatti secondari sfogo alla lunga tensione che è nei cuori i sinedristi gli anziani gli scribi i sadducei i giudei potenti passano indifferenti sornioni come se tutto quello esplodere di piccole ire di vendette personali di nervosismo non avesse radice in loro e più passano le ore e più il ribollire cresce e i cuori si accendono dicono questi sentite un po' che il Cristo non può guarire i malati io ero lebroso e ora sono sano ma li conoscete voi costoro io non sono di gerusalemme ma mai li ho visti fra i discepoli del Cristo da due anni a questa parte costoro fammi vedere quello di mezzo ah ribaldo ladrone questo è quello che alla passata luna vi è venuto a offrire denario in nome del Cristo dicendo che egli assolda uomini per impadronirsi della Palestina e ora dice ma perché l'ho lasciato scappare un altro lo dice capito che malandrini per poco io ci cadevo aveva ragione mio suocero eccola Giuseppe l'anziano con Giovanni e con Giusuè andiamo a chiedere loro se è vero che il maestro vuole farsi degli eserciti essi sono giusti e sanno corrono in massa verso i tre sinedristi ed espongono la loro domanda ma capite quello questi concitati dialoghi valgono anche a far capire alcune cose che giravano intorno al nostro Signore perché questa masnada di carogne perché così vanno definiti i farisei dell'epoca e per quanto mi riguarda anche i novelli farisei di oggi detto proprio in camera caritatis cioè carogne avete capito che facevano questi andavano in giro a offrire denaro in nome di Cristo dicendo che egli assolda uomini per impadronirsi della Palestina capito quindi mandavano in giro la gente a dare soldi dicendo guarda questo è se ti ruoli nell'esercito del Cristo che adesso lui si sta facendo un esercito a umma perché deve passare all'assalto della Palestina capito capito ste carogne presumibilmente Giuseppe da Rimatea qui dice esatto si vede più avanti che lui andate a casa andate a casa uomini per le vie si pecca e ci si nuoce non questionate non allarmatevi badate ai vostri affari e alle vostre famiglie non ascoltate gli agitatori di illusi non fatevi illudere il maestro è un maestro non un guerriero voi lo conoscete e ciò che pensa dice non vi avrebbe mandato altri a dirvi di seguirlo come guardieri se egli vi avesse voluto i tali non nuocete a lui a voi e alla nostra patria a casa uomini a casa non fate di ciò che è già una sventura la morte di un giusto un seguito di sventure tornate alle case e pregate per Lazzaro a tutti benefico dice il Dari Rimatea che deve essere molto amato e ascoltato dal popolo che lo conosce giusto anche Giovanni quello che era geloso dice egli è uomo di pace non di guerra non ascoltate i falsi discepoli ricordate come erano diversi gli altri che si dicevano Messia ricordate confrontate e la vostra giustizia vi dirà che quelle insinuazioni e la violenza non possono venire da lui a casa a casa dalle donne che piangono e dai bambini impauriti è detto guai ai violenti e a quelli che favoriscono le disse gli prometto di fare un altro pit stop vedete come cioè la come dire la montagna di fango che era stata seminata intorno al Cristo come dire confondeva le persone diciamo questo sì però se sapere queste cose vedete come questo Giovanni che ha parlato fornisce dei criteri oggettivi di discernimento noi dobbiamo impararle queste cose dobbiamo impararle immaginate adesso non parliamo di me che lasciamo a perdere però immaginate che voi state dando credito a un uomo di Dio X a un certo punto succedono delle cose si sentono delle voci che mamma mia e che facciamo diamo credito al buio a quelle voci sbagliato le ignoriamo per partito preso no sicuramente non sono vere via potrebbe essere un atteggiamento imprudente perché si sa mai allora e allora bisogna imparare dei veloci criteri di discernimento chiaro no? allora cosa sta dicendo? uomo di pace alcune cose le ha dette già Giuseppe d'Arimatea quello che lui dice lo pensa se vi deve esortare alla guerra non manda il gobbo a chiamarvi lo fa lui lo fa ma ti sembra verosimile che una persona che ha predicato in quel modo e ha sempre osservato un certo stile sia un guerra fondaio questo è un primo criterio di discernimento no poi ce n'è un altro confrontate quelli che si dicevano messia perché in Israele erano già comparsi diversi pseudo messia altra tecnica satanica sapete come sono le tecniche sataniche no? siccome lui lo sa che deve arrivare il messia vero che cosa fa? fomenta i falsi in modo tale che quando arriva il vero succede un macello schema classico con le false apparizioni classico perché il demonio stimola tante false apparizioni? ricordate che ha seguito se uno non vuole dar retta all'evidenza oggettiva dei fatti e attratto da altre fonti nel ciclo di catechesi dedicato a Gloria Polo ricorderete che a un certo punto Gesù stesso parlando a Gloria Polo gli ha detto guarda che un sacco di apparizioni la maggioranza delle apparizioni sono false e perché? perché il diavolo fa sempre così no? questo si chiama il gioco degli specchi lo conoscete? se state in una parca dove ci sta la stanza degli specchi che succede? se tu ti metti in una stanza piena di specchi sopra, sotto, a destra, a sinistra che succede? succede che non sai più riconoscere dove sta il soggetto e l'immagine riflessa quindi creare una falsa apparizione è importantissimo perché quando arriva quella vera quale è vera e quale è falsa? allora ci vogliono dei criteri oggettivi di discernimento ci vogliono oltre al fatto che la falsa apparizione in se stessa secondo la la segue comporta dei danni oggettivi ma l'obiettivo più sottile è l'inficiare quella vera è l'impedire che possa manifestarsi quella vera quindi se io vado a mettere in giro una serie di pseudo messia quando arriva quello vero questo sarà l'altro l'ennesimo pseudo messia no? beh bisogna fare l'attenzione perché il diavolo è terribile non è stupido siamo stupidi noi non è stupido lui le sue tecniche sono terrificanti io veramente delle volte anche in preghiera dico al signore gli esseri umani chi è capace di fare un discernimento serio ma quasi nessuno alla fine è così però figlioli miei cari alla fine siamo veramente come dice San Paolo delle canne sbattute al vento delle delle botti buttate dentro il mare che rimangono in badia delle onde sballottati allora questo ne dà alcuni criteri come erano questi pseudo messia erano diversi no? ricordate confrontate fate un confronto tra i falsi e il presunto vero il confronto importantissime queste cose guardate che oggi sono importanti queste cose tanto importanti noi non possiamo delegare a nessuno il discernimento delle delle persone delle delle situazioni a nessuno e dobbiamo imparare se non siamo buoni dobbiamo imparare alla svelta pure il discernimento non è mi sento mi sento che è vero mi sento che è falso no no perché ci credi a quell'apparizione perché mi sento che è vera no vabbè andiamo avanti un gruppo di donne si accosta in lacrime e tre sinedristi e una dice gli iscrivi hanno minacciato il mio uomo ho paura Giuseppe parla tu adesso lo farò ma che tuo marito sappia tacere credete di giovare al maestro con questa agitazione di fare onore al morto vi sbagliate nuocete all'uno e all'altro verissimo risponde Giuseppe e le lascia per andare incontro a Nicodemo che seguito dai servi viene da una via non speravo a vederti Nicodemo io stesso non so come ho potuto il servo di Lazaro è venuto finito il gallicinio a dirmi la sciagura e a me più tardi sono subito partito sai se a Betene c'è il maestro no non c'è il mio intendente di Bezzetta fu all'ora di terza e mi disse che non c'è io non capisco come a tutti il miracolo e non a lui esclama Giovanni forse perché alla casa ci ha dato più che una guarigione ha redento Maria e ha reso pace e onore dice Giuseppe pace e onore dei buoni e buoni perché molti non hanno reso e non rendono onore neppure ora che Maria voi non sapete tre di da oggi furono là e il Chia e molti altri non fece l'onore abbiamo letto questo episodio nelle puntate precedenti e Maria li scacciò me lo dissero furenti ed io ho lasciato dire per non scoprire il mio cuore dice Giuseppe e ora vanno ai funerali chiede Nicodemo ebbero l'avviso e si adunarono a discutere al tempio oh i servi ebbero molto da correre questa mattina all'aurora perché così affrettato il funerale subito dopo sesta perché Lazzaro era già corrotto quando morì mi disse il mio intendente che nonostante le resine che ardono per le stanze e gli aromi profusi sul morto il puzzo del cadavere si sente sino dal portico della casa e poi al tramonto si inizia il sabato non era possibile fare diversamente e dici che si adunarono al tempio perché ecco veramente era già indetta l'adunanza per discutere sul Lazzaro vogliono dire che fosse l'Ebroso ricordiamo questo no dice Giosuè questo no egli per primo si sarebbe isolato secondo la legge difende Giuseppe e aggiunge ho parlato con il loro medico egli me lo ha assolutamente escluso era malato di una consunzione putrida e allora di che hanno discusso posto che Lazzaro era già morto chiede Nicodemo sull'andare a meno i funerali dopo che Maria li ha cacciati chi voleva sì e chi no ma chi voleva andare erano i più e per tre motivi primo vedere se c'è il maestro prima ragione comune a tutti e vedere se fa il miracolo seconda ragione e terza il ricordo di recenti parole del maestro gli iscrivi verso il Giordano in quel digerico spiega ancora Giosuè ora qui attenzione all'altra cosa non so se avete colto un'altra finezza un altro modo per nuocere a Gesù accusare Lazzaro di essere lebroso perché qui ci vuole chiaramente una una testa che sappia com'era la legge per gli ebrei se una persona era lebrosa doveva essere denunciato subito alle autorità religiose e isolato dal contesto civile dal consorzio civile per obbedienza alla legge di Mosè allora se Lazzaro fosse stato lebroso e non è stato denunciato è amico del maestro quindi il maestro sicuramente lo sapeva e quindi non l'ha spinto a andarsene e a denunciare il suo caso all'autorità quindi è un trasgressore della legge di Mosè chiaro no? il miracolo ma quale se è ormai morto chiede con un'alzata di spalla Giovanni e termina sempre i soliti cercatori dell'impossibile il maestro ha risuscitato altri morti osserva Giuseppe è vero ma se avesse voluto tenerlo vivo non l'avrebbe lasciato morire la tua ragione di prima è giusta essi hanno già avuto sì ma Unziel altro camaforo si è ricordato e con lui Sadoc altro Mambrucco di una sfida avuta molte lune or sono il Cristo ha detto che darà la prova di saper ricomporre anche un corpo disfatto e Lazzaro è tale e ancora dice Sadocco lo scriva che presso Giordano il rabbi di suo gli ha detto che alla nuova luna vedrebbe compiersi metà della sfida questa di uno disfatto che rivive e senza più sfacimento e malattia e hanno vinto loro se ciò avviene certo è perché c'è il maestro e anche se ciò avviene non c'è più dubbio su di voi purché ciò non sia male mormora Giuseppe male perché gli scrivi i farisiesi persuaderanno oh Giovanni ma sei uno straniero per poter dire questo non conosci i tuoi concittadini quando mai la verità li ha fatti santi non ti dice nulla il fatto che nella mia casa non sia stato portato l'invito all'adunanza stop fermi tutti capito questa gente allora amici cari noi purtroppo dobbiamo imparare ahimè e nell'attuale situazione ecclesiale sociale politica questa cosa è necessaria ripeto necessaria dobbiamo imparare a catalogare le persone questo è un criterio fondamentalissimo quando mai la verità li ha fatti santi la verità oggettiva quando una persona rifiuta il confronto con la verità oggettiva o ha avuto la possibilità di entrare in confronto con essa non si piega dolcemente ma anche risolutamente alle esigenze della verità vuol dire che questa persona è perversa non piegarsi alla verità conosciuta che peccato è ascoltatori miei indiretta indifferita che peccato è non piegarsi alla verità conosciuta è applicato contro lo spirito santo e Giuseppe di Arimatea che sta parlando non è cretino invita a riflettere non ti dice nulla che non fu portato in vito all'adunanza a casa mia come mai vedete anche sempre il collegamento del cervello no e adesso Nicodèo infatti aggiunge neppure nella mia fu portato dubitano di noi e ci lasciano fuori sovente le carogne i masnadieri è chiaro che tendono ad isolare quelli che reputano ostacoli fastidi per l'attuazione dei loro trame insidie e questo è un altro elemento di discernimento e chiede c'era Gamaliele suo figlio e lui verrà anche per il padre che è sofferente a Gamala di Giudea e che diceva Simeone nulla nulla affatto ha ascoltato se n'è andato poco fa è passato con le discepoli del padre suo diretto a Betania sono quasi alla porta che apre sulla via di Betania e Giovanni esclama guarda è presidiata perché mai e fermano chi esce c'è agitazione in città oh non è poi delle più forti giungono alla porta e sono fermati come tutti gli altri la ragione di questo milite io sono nato a tutta l'Antonia né di me potete dire male vi rispetto e rispetto le vostre leggi dice Giuseppe da Rimatea ordine del centurione il preside sta per entrare in città e vogliamo sapere chi esce dalle porte specie da questa che è sulla via di Gerico ti conosciamo ma conosciamo anche il vostro umore per noi tu e i tuoi passate e se avete voce sul popolo dite che è bene per esso stare calmo Ponzio non ama mutare le sue abitudini per dei sudditi che adombrano e potrebbe essere severo troppo un consiglio leale a te che leale sei passano sentito prevedo giorni pesanti bisognerà consigliare gli altri più che il popolo dice Giuseppe la via per Betania è affollata di gente che va tutta in una direzione a Betania tutta gente che va a funerali si vedono sinedristi e farisei mescolati a Sadducee e Scribi e questi ai contadini servi intendenti delle diverse case e poteri che Lazzaro ha in città e nelle campagne e più ci si avvicina a Betania più tutti i sentieri e le vie più da tutti i sentieri e le vie altra gente sbocca in questa casa principale ecco Betania Betania in lutto intorno al suo più grande cittadino tutti gli abitanti con le vesti migliori sono già fuori dalle case che sono serrate come se nessuno fossi in esse ma ancora non sono nella casa del morto la curiosità li trattiene presso il cancello lungo la via osservano chi passa degli invitanti e si scambiano le mie impressioni ecco Nathanel Benfaba oh il vecchio Mattatia parente di Giacobbe il figlio di Anna guarderò la Condora Scalla Scebona Archelao uh come hanno fatto venire quelli di Galilei ci sono tutti guarda Eli Giocana Ismael Uria Gioacchino Elia Giuseppe il vecchio Canania con Sadoc Zaccaria Giocana Saducei c'è anche Simeone di Camaliele solo il Rabbi non c'è ecco il Chia con Naum Felice Anna Lo Scriba Zaccaria Gionata di Uziel dagli e dagli tutti ci stanno Saul con Eleazzaro Trifone e Ioazzar buoni questi un altro dei figli di Anna il più piccolo parla con Simone Camil Filippo con Giovanni l'antipatride Alessandro Isacco e Giona di Baba on Sadoc Giuda discendente degli assidi l'ultimo credo della classe ecco degli intendenti dei diversi palazzi non vedo gli amici fedeli quanta gente davvero quanta gente questo nota la scrittrice tutta sussiegata parte con un viso di circostanza o con i segni del vero dolore sul volto il cancello spalancato inghiotte tutti e vedo passare tutti quelli che in successive riprese ho visto benevoli o nemici intorno al maestro tutti meno Gamaliele e meno il sinedrista Simone e vedo altri ancora che non ho mai visto e che avrò visto o che avrò visto senza saperne il nome nelle dispute intorno a Gesù passano rabbi crolo discepoli e scribbi a gruppi serrati passano giudei dei quali sento numerare le ricchezze il giardino è pieno di gente Marte e Maria sono disfatte si tengono per mano con due bambine spaurite del vuoto che si è fatto nella loro casa del nulla che empie la loro giornata ora che non c'è più da curare Lanzaro ascoltano le parole dei visitatori piangono con i veri amici codipendenti fedeli si inchinano ai gelidi imponenti rigidi sinadristi venuti più per mettersi in mostra che per onorare il defunto rispondono anche stanche di ripetere le stesse cose centinaia di volte a chi le interroga sugli ultimi momenti di Lanzaro Giuseppe Nicodemo gli amici più offidi si mettono al loro fianco con poche parole ma con un'amicizia che conforta più di ogni parola torna Elchia con i più intransigenti chi vuole ha parlato a lungo e chiede non potremmo osservare il morto Marta si passa con pena la mano sulla fronte e chiede ma quando mai ciò si fa in Israele già è preparato e lacrime lente le scendono dagli occhi non si usa è vero ma noi lo desideriamo gli amici più fedeli hanno ben diritto di vedere un'ultima volta l'amico ma anche noi sorelle avremmo avuto questo diritto ma fu necessità a imbalsamarlo subito e tornate che fummo nella stanza di Lazzaro non vedemmo più che era forma tra le fasce dovevate dare ordini chiari non potevate e non potreste levare il sudario al volto oh ma è corrotto già e l'ora di funerale è venuta Giuseppe interloquisce Elchia mi sembra che noi per eccesso di amore procuriamo pena lasciamo in pace le sorelle si avanza Simeone figlio di Gamaliele a impedire la risposta di Elchia mio padre verrà appena che possa io lo rappresento egli apprezzava Lazzaro ed io con lui Marta si inchina rispondendo l'onore del rabbio al fratello nostro sia compensato da Dio Elchia essendo il figlio di Gamaliele si scosta senza insistere oltre e discute con gli altri che gli fanno osservare ma non senti il fetore vuoi dubitarlo del resto vedremo se murano il sepolcro non si vive senza aria capite qual è il problema è morto veramente questi già stanno facendo i film questo non è morto veramente mo arriverà il rabbi di Nazareth fa una bella messa in scena che dice che lo risuscita ma in realtà questo non è morto dovevano andare a controllare se era morto veramente pazzesco eh un altro gruppo di farisei si avvicina alle sorelle sono quasi tutti quelli di Galilea Marta ricevute le loro attestazioni non si può trattenere dal dire il suo stupore per la loro presenza donna il sinedrio siede in deliberazione di somma importanza e noi siamo nella città per questo spiega Simone di Caparno e guarda Maria della quale certo ricorda la conversione ma si limita a guardarla ecco farsi avanti Giocana Doras figlio di Doras e Ismael con Canani e Sadoc e altri che non so chi siano parlano già prima di parlare con i loro volti viperini ma aspettano che Giuseppe si allontani con Nicodemo per parlare a tre Giudei per poter ferire è il vecchio Canania che con la sua voce chioccia di vecchio cadente dà la pugnalata che ne dici Maria il vostro maestro è l'unico assente di molti amici di tuo fratello singolare amicizia tanto amore finché Lazzaro stava bene e indifferenza quando era l'ora di amarlo tutti hanno miracoli da Lui ma qui non c'è miracolo che ne dici donna di simile cosa ti è ingannata molto molto il bel rabbi Galileo ma non dicesti che ti aveva detto di sperare oltre lo sperabile non hai dunque sperato o non giova a sperare in Lui speravi nella vita con la V maiuscola hai detto già e gli si dice la vita ma l'ha detto tuo fratello è morto e lei ha aperto già la bocca del sepolcro e il rabbi non c'è egli sa dare la morte e non la vita dice con un gigno Doras il figlio di quel Doras a cui veramente si andrà a leggere la storia di ti lascio al dio del Sinai con questo Doras va beh Marta che viene il volto fra le mani e piange la realtà è ben questa la sua speranza è ben delusa il rabbi non c'è non c'è neppure non è neppure venuta a confortarle eppure avrebbe potuto essere là ormai Marta piange non sa più che piangere anche Maria piange anche essa ha la realtà davanti ha creduto ha sperato oltre il credibile ma non le è accaduto e i servi già hanno levato la pietra alla bocca del sepolcro perché si inizia la discesa del sole e il sole scende presto in inverno ed è venerdì e tutto deve essere fatto in tempo e in modo che gli ospiti non abbiano a trasgredire alle leggi del sabato che fra poco inizio ha sperato tanto sempre troppo sperato ha consumato le sue capacità in questa speranza ed è delusa Canania insiste non mi rispondi ti persuadi adesso che egli è un impostore che vi ha sfruttato e schernite povere donne e scrolla il capo fra i suoi simili che lo imitano dicendossi pure povere donne Massimino si accosta è l'ora date l'ordine tocca a voi Marta si accascia al suolo e soccorsa viene portata via a braccia fra l'uluro dei servi che comprendono essere venuta l'ora della deposizione nel sepolcro e intonano i lamenti Maria stringe le mani convulsa supplica ancora un poco ancora un poco e mandate i servi sulla via verso Ensemes e la fontana su ogni via servi a cavallo che vedano se viene ma speri ancora o infelice dice sempre quel vecchiaccio bacucco di Canania ma che ci vuole a persuaderti che egli vi ha tradito e illuse odiate via e schernite questo è veramente troppo col volto lavato dal pianto torturata eppure fedele nel semicerchio di tutti gli ospiti che si sono radunati per vedere uscire la salma Maria proclama se Gesù di Nazareth così ha fatto bene è ed è grande amore il suo per noi tutti di Betania tutto a gloria di Dio e sua egli lo ha detto che da questo verrà gloria al Signore perché la potenza del suo verbo splenderà completa eseguisci Massimo il sepolcro non è ostacolo al potere di Dio ecco qui è uno dei passaggi in cui c'è la quintessenza di Maria di Magdala di una donna che ha cominciato a capire bene alcune cose numero uno questo facciamoci un bel quadretto e mettiamocelo sempre sul letto se Gesù di Nazareth così ha fatto bene è sappiamo dire queste cose nella nostra vita sempre qualunque cosa accada se Gesù di Nazareth così ha fatto bene è non solo grande è il suo amore per noi chi è che benedice Dio nella prova nella tribolazione chi è che dice è arrivata questa cosa bene torniamo da dove siamo partiti o chi è che dice è arrivata questa disgrazia mi sta bene me la merito o vogliamo continuare in continuazione a mettere sempre Dio sul banco degli imputati e tutto a gloria di Dio è sua sempre così tutto si volge per coloro che lo amano dice San Paolo tutto concorre al bene per coloro che amano Dio e su cosa si fonda su cosa si fonda la nostra fede sulla parola sulla promessa egli lo ha detto che da questo verrà gloria al Signore perché la potenza del suo verbo spenderà completa egli lo ha detto capite che cos'è la fede come si fa a star tranquilli per esempio in un contesto come quello attuale una ricetta la Madonna e qui possiamo e dobbiamo dire la Madonna ha detto a Fatima alla fine il mio cuore immacolato trionferà punto quindi sempre nei momenti di crisi nei momenti di sconforto guardare sempre puntare l'occhio sulla bussola questa è la bussola questa è la meta e non temere e quindi chiudi il sepolcro un altro atto di fede il sepolcro non è da ostacolo al potere di Dio vedete la tempra anche di questa donna si scosta sorretta da Noemi che accorta e fa un cenno la salma nelle sue fasce esce dalla casa attraverso il giardino fra due ali di gente fra l'urlio del cordoglio Maria vorrebbe seguirla ma vacilla si accorta quando già tutti sono verso il sepolcro e giunge in tempo per vedere scomparire la lunga forma immota nell'interno buio del sepolcro nel quale lo seggiano le torce tenute alte dai servi per illuminare la scala a quelli che scendono col morto perché il sepolcro di Lazzaro è piuttosto interrato forse per fluire di strade di roccia sotterranea io l'ho visto si vede ancora il sepolcro di Lazzaro a Petania in terra santa Maria grida è allo strazio grida e col nome del fratello è quello di Gesù pare le strappino il cuore ma non dice che quei due nonni e li ripete sinché il pesante rumore della chiesura rimessa alla bocca della tomba non le dice che Lazzaro non è più sulla terra neppure col corpo allora cede e perde la conoscenza di tutto si abbatte su chi la sostiene e sospira ancora mentre sprofonda nel nulla dello svenimento Gesù Gesù viene portata via resta Massimino a licenziare gli ospiti e a ringraziarli per tutta la parentela resta per sentire da tutti che torneranno per il cordoglio ogni giorno sfollano lentamente gli ultimi a partire sono Giuseppe Nicodemo Eleazzaro Giovanni Gioacchino Giosuè sul cancello trovano Sadoc con Urile che ridono cattivi dicendo la sua sfida e l'abbiamo temuta oh è ben morto come buzzava nonostante gli eromi non c'è dubbio no non necessita levare al sudario io credo che sia già verminoso sono felici Giuseppe li guarda uno sguardo così severo che tronca parole e risate tutti si affrettano al ritorno per essere in città avanti la fine del tramonto chicca finale vedete perché proprio il fariseo è proprio l'incarnazione cioè fanno ste robe fanno questa tale proprio beceraggine insulsa però dobbiamo tornare in tempo per il sabato è per carità cioè scherziamo capiamo perché Gesù nel Vangelo ci si è attaccato così tante volte il brano finisce con Maria che è sopraffatta dal dolore quindi questo fa comprendere come il suo atto di fede in questo contesto evidentemente è un atto di fede assolutamente eroico assolutamente esorbitante grande ecco penso che possiamo mettere punto perché il prossimo paragrafo e capitolo chiaramente sarà il celebre brano evangelico della risurrezione di Lazzaro quindi quello che avrebbe segnato veramente una svolta pazzesca nella vita di Gesù e di Maria lo vediamo la prossima volta anche perché è un capitolo lunghissimo quindi chi lo sa se riusciremo a reserirlo soltanto in una puntata ma tanto non credo che nessuno di noi abbia fretta di finire questo ciclo bene una santa serata a tutti Dio vi benedica la santa vergine grazie per il libro Degg laudentur Iesus et Maria Dio vi benedica